Ciao e ben ritrovati qua sul canale. Oggi vorrei parlarvi di mondo del lavoro e nello specifico descrivervi alcuni concetti fondamentali di una industria di cui ancora non abbiamo parlato qua sul canale, ovvero quella infrastrutturale barra energetica. Dopo l'università infatti come sapete si può finire a lavorare in team di settori che seguono una particolare industria, questo è più frequente se si va a lavorare a Londra piuttosto che a Milano, ma comunque ci possono essere all'interno della società delle persone che si occupano di settori particolari come quello che appunto andiamo a descrivere oggi insieme. Con questo video quindi vorrei rispondere alla domanda che cos'è che differenzia il lavoro di una persona coinvolta nell'industria infrastrutturale o energetica rispetto magari alla classica persona che lavora all'interno del mondo industrial sotto cui però bisogna ricordarlo ci sono poi molte sfaccettature. Quello che vi sto per raccontare quindi si basa anche molto sulla mia esperienza. Nei primi anni di lavoro in investment banking mi sono occupato tra l'altro anche di vari sottosettori all'interno del mondo industrial, al contrario adesso lavoro a Milano presso un private equity di tipo infrastrutturale energetico. Partiamo quindi da una macro overview di settori quali infrastrutture ed energy in generale. Quello che possiamo dire è che si tratta di business regolati. Che cosa significa? Che di fatto l'operatività è definita in maniera molto rigida da moltissime norme emesse dalle autorità nazionali e non. Quindi tutto è abbastanza prevedibile sia a livello patrimoniale che di flusso economico nell'anno. E quindi tutte queste variazioni e tutte queste ipotesi a Samsung future vengono considerate in maniera molto scrupolosa all'interno di un business plan. Tutti i fattori vengono quindi modellizzati per arrivare a dei piani industriali a lunghissima durata. Cosa che invece non succede per le normali aziende lato industrial. Non è a fatturare avere a che fare quindi con business plan della durata anche di 40 se non 50 anni. Perché di fatto l'infrastruttura una volta che viene costruita rimane lì per i prossimi anni. Per un orizzonte temporale particolarmente lungo. Dove l'obiettivo dell'azionista o dell'investitore sarà quello di ottenere sempre maggiori flussi di cassa. Lungo l'orizzonte di piano inoltre saranno previsti degli interventi di manutenzione o miglioramento delle infrastrutture a fronte di eventuali rifinanziamenti delle condizioni del debito attuali oppure tiraggi di nuove linee di debito. Essendo l'asset uguale per tutti la capacità di un investitore o di un azionista rispetto ad altri per ottenere quindi dei maggiori flussi sarà agire su determinate leve. E spese sono quelle relativo ai costi operativi della gestione di quell'asset oppure investimenti futuri cosiddetti capex e soprattutto agire sulla leva finanziaria e su tutte le tematiche inerenti il debito. Acquistare è l'asset ma che viene posseduto da una società potremmo dire vuota comunque creata ad hoc per possedere l'infrastruttura stessa che vengono definite SPV special purpose vehicle che a loro volta l'insieme di SPV può essere posseduto da più scatole come per esempio holding. Quindi mi sono reso conto che in questa industria a differenza dell'industria generale industrial ci possono essere delle situazioni tali per cui l'operazione e la struttura da mettere in piedi è particolarmente complessa e quindi nel momento in cui si vanno a occupare delle posizioni senior dopo un certo numero di anni sarà fondamentale anche apprendere tutta una serie di conoscenze a livello legale e normativo. Passiamo quindi adesso ad analizzare in maniera molto generale il settore industrial dove ci sono delle profonde differenze con quanto abbiamo descritto adesso. Prima di tutto i business plan sono particolarmente brevi di qualche anno perché ci sono tantissimi driver sotto quel piano industriale che possono andare a influenzare le crescite future e i rispettivi margini. Infatti un business plan di questo tipo sarà molto influenzato da quelli che sono i prezzi futuri a cui l'azienda venderà i propri prodotti o servizi così come la quantità dei prodotti sia realizzata che venduta oppure dal lancio di nuovi prodotti nuove linee di business l'acquisizione di altre aziende target e la possibilità di implementare strategie. In altre parole questo business plan altro non è che la quantificazione in numeri di quella che è la visione dei prossimi anni dell'azienda e quindi la visione del CEO e del CFO con i quali spesso questi business plan venivano appunto preparati durante la mia esperienza in investment banking. Questi piani industriali quindi hanno una componente di volatilità molto superiore rispetto ad un piano industriale realizzato nell'ambito dell'industry infrastructure in generale e presentavano tutti tassi di crescita particolarmente elevati così come un netto miglioramento dei margini. La valutazione poi era una valutazione asset side ovvero venivano scontati flussi di cassa operativi secondo la metodologia DCF ovvero discounted cash flow e venivano quindi attualizzati al weighted average cost of capital WAC a differenza di quanto succede invece in progetti di tipo infrastructure o energy dove la componente del debito è facilmente prevedibile ed è prevedibile per il lungo periodo e quindi viene inclusa nei flussi di cassa che andiamo a scontare e i flussi di cassa che saranno alla base della nostra valutazione sono quindi i free cash flow to equity ovvero i flussi di cassa a servizio degli azionisti e sarà una valutazione di tipo levered tra tutte le capacità e competenze che sono richieste per poter lavorare quindi in un team infrastrutturale energy una delle più rilevanti è la capacità di poter gestire un business plan in excel particolarmente complesso in quanto come detto in precedenza tutte le dinamiche vengono fattorizzate ed incluse con il massimo dettaglio possibile ma quello che è importante secondo me per una persona con un background economico finanziario che lavora all'interno di team che si occupano del mondo infrastrutturale non è tanto conoscere questi dettagli per i quali saremo sicuramente aiutati o supportati da persone con un background più affini a questo tipo di competenze perché l'obiettivo di una persona con ambito e un background economico finanziario è quella come diciamo sempre di fare ingegneria ed ottimizzazione finanziaria che cosa significa significa creare valore quindi ottenere maggiori flussi di cassa e quindi maggiori ritorni sul nostro investimento proprio grazie all'implementazione di concetti finanziari particolarmente complessi e il concetto che ha un ruolo probabilmente maggiore in tutto questo è la struttura di debito eleva finanziaria che una società è in grado di negoziare concordare con le banche e riuscire a mettere in piedi come vi dicevo infatti in precedenza c'è molto meno spazio dal punto di vista operativo per poter agire sui ritorni dell'investimento a differenza di quanto fatto da una tradizionale azienda dove il CEO può agire sia lato ricavi con molteplici iniziative che lato costi con tagli limiti di ogni genere a differenza invece di quanto succede nel mondo energy infrastructure dove KPI le metriche e i key ratio principali sono abbastanza comuni indipendentemente da quello che possa essere l'azionista o il gestore di quel determinato asset per quanto riguarda le riflessioni finali forse lavorare in un team infrastrutturale può essere meno carino rispetto a lavorare in un team che si occupa di consumer in quanto è molto più divertente anche ad andare ad agire sulle leve operativi prodotti servizi piuttosto che lavorare e analizzare una infrastruttura ma in quest'ultimo caso si vanno ad apprendere delle conoscenze finanziarie molto più complesse e nel dettaglio che sicuramente vi torneranno sempre utili in quanto imparerete secondo me a ragionare molto di più in termini di investimento e di ritorno in particolar modo nel momento in cui sarete lato buy side per quanto riguarda invece il mondo della consulenza dopo i primi mesi sarete coinvolti da subito nel financial modeling e questo sicuramente vi permetterà di apprendere moltissime competenze dall'altro lato però è richiesta anche tutta una fase di attività relativa al supporto del processo e di realizzazione documentale anche se si tratta dal mio punto di vista di un'analisi e una documentazione più standard rispetto a quella di elaborare dei documenti per una specifica azienda in quanto l'analisi deve deve essere fatta ad hoc su quella realtà aziendale infine fare una esperienza lato infra energy vi verrà sicuramente tantissime opportunità sia a livello di corporate dove di fatto il nostro paese è dominato da banche e di utilities ma anche opportunità all'interno delle divisioni delle banche e nello specifico leverage finance e project finance proprio perché il finanziamento è un aspetto fondamentale di questo business come al solito spero di essere stato utile e che le mie parole basate anche sulla mia esperienza diretta ti possano essere di aiuto per le tue scelte future non dimenticarti di lasciare quindi un bel mi piace ed iscriverti al canale e se hai delle domande o vuoi appunto raccontare la tua esperienza in team specifici in cui hai lavorato io ti aspetto come sempre nei commenti qua sotto ciao noi ci vediamo sempre qua sul canale a presto ciao